L'ex sindaco di Palermo Massimo Ciancimino è stato arrestato su ordine del GIP di Bologna con l'accusa di associazione a delinquere ed evasione fiscale. I PM contestano a Ciancimino l'aggravante di aver favorito Cosa Nostra oltre a reati fiscali riferiti al periodo in cui viveva in Emilia-Romagna con un'evasione calcolata in circa 30 milioni di euro. Evasione e frode fiscale, bancarotta fraudolenta, contrabbando, mendaccio bancario, sostituzione di persona, falso iscritture private, falso commesso da incaricato di pubblico servizio. 13 le persone arrestate, di cui 9 in carcere e 4 ai domiciliari, tra cui Patrizia Gianferrari di Riccione, sedicente rappresentante di affari, e Gianluca Polloni di Roma, il presunto commercialista che si occupava di far scomparire le aziende a Panama. Ciancimino è uno dei testimoni chiave del processo sulla trattativa tra lo Stato e la mafia, in cui è anche imputato di concorso in associazione mafiosa e calugna all'ex capo della polizia Gianni De Gennaro e il figlio dell'ex sindaco mafioso di Palermo è anche indagato per detenzione di esplosivo. Grazie a tutti.